Oh, cazzo ribaldi! Va bene, che devo fare? Che cazzo vuoi? Che cazzo! Alessandro, vai! Alessandro, vai! Sono vecchio! Che devo, tu! Soppa! Ok! 250! 252! 253! 254! 255! Che uomo duro! Sei sciupato! Stoppa! Stoppa! 255! 255! 265! 265! 266! 265! 277! Vai! Vai! La mamma non voleva. Lui e l'essere senza nome si arrampicò e stava pure per cadere. Ma lui è... L'avventure man! Via! Lui... Oh cazzo! Oh cazzo! L'hanno schiacciato! Vai! Lui è... Un vero eroe! Questo è un fuoriscena! Porco... Che male porco, chiuda! Allora ragazzi... Questo è lo speciale dei 10 iscritti. Abbiamo fatto quello che potevamo per farvi divertire, ma vabbè. Cazzate varie. Eh infatti... Volevamo chiamarlo Cazzate di Giorno Episodio 3, ma abbiamo deciso... Oh! Cazzo! È un episodio speciale! Oh cazzo! Insomma perché abbiamo fatto un sacco di cazzate. Allora, questo può darsi che sia il video più divertente del canale, forse. Forse, però mai Marlani Martinelli. Eh, quello... È quello più epico, però... È un episodio eccezionale. Insomma, con questo vi salutiamo, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace ai nostri video, specialmente a questo. E mi sa che dopo questo video noi intraprenderemo una cultura. Come cazzo mi è venuto cultura? Non lo so. Una carriera più decisa, capito? Più giocosa. Noi ci specializziamo... Giocosa? Ci specializziamo. Ci specializziamo. Ci specializziamo. Perché non so. Ci specializziamo nei vlog, cioè queste cose. E soprattutto pure su vari giochi tipo Happy Wheels. Vabbè, avete visto gli episodi. Però... Il secondo episodio è a cazzo. A cazzo. Vabbè. Agni, agni, agni. Ci sono differenze. Vabbè, comunque. Vabbè. Averte questo... Lo direi che sarà tutto. Questi sono le news del canale. Insomma... Devo essere tutto da The Power Game. PL. Piorololololol. Oppure Lorenzo Cichella. Il canale... Allora. Mi sono sguardo di dirvi il canale. Se lo volete trovare dovete scrivere... Fa tutto lui. La new entry, capito? Fa tutto lui. 10 iscritti miei. E tutto lui. Il canale si è che... Non è una ruote che si può piacere. Va bene. E tutto lui. Non è un'accomissazione. Non è un'accomissazione. Era un'accom fifteen'e. Ma che è stata una ruota. Ma che è una ruota. Il canale le canali. Fa tutto lui.